Una sera ero a cena con i miei genitori e stavamo ascoltando quelle che erano le notizie al telegiornale. Una mi colpì in particolar modo, era l'aumento dei morti sul posto di lavoro. Mi ricordo ancora che ascoltai l'intervista di un genitore che aveva perso il figlio in un cantiere. Quello sconforto mi portò a chiedermi che cosa posso fare io per aiutare quelle persone, in che modo posso aiutarli. Iniziai a cercare un qualcosa che mi permettesse di portare avanti questo mio desiderio, fino a che non trovai questo corso, il corso in tecnica della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Le lezioni ti danno quelle che sono le basi, ma la vera formazione la si vive sul campo. Il nostro compito è quello di garantire la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro e lo facciamo tramite interventi di vigilanza mirata che variano da quelle che sono delle semplici attività, quali bar, negozi e ristoranti, fino ad arrivare ad attività ben più complesse, quali possono essere cantieri, allevamenti o addirittura ospedali. Noi siamo tecnici della prevenzione, il nostro compito quindi è quello di aiutare le persone a sentirsi sicure sul posto di lavoro. Dobbiamo essere pertanto comprensivi e giusti nelle nostre scelte perché da quelle dipende la salute degli altri. Quello che mi motiva ad andare avanti giorno dopo giorno è sapere che grazie al mio intervento e quello dei miei colleghi posso permettere alle persone di tornare a casa sicure ogni sera dalle proprie famiglie. Grazie a tutti.